Amici del Kai Soccer ben ritrovati, quest'oggi siamo a Ponte Nure dove la squadra locale sfiderà i Liverpool in un match valido per la Golden League di Calcio 11. La Ponte Nurese in maglia azzurra di Mister Tosi si schiera con Baldini, Boeri, Carpi, Castello, Cattivelli, Chiusa, Cignatta, Codazzi dall'ospedale, Kocev, Marchietti, Montanari, Nepi, Pella, Sultano, Alessandro Tagliaferri, Claudio Tagliaferri, Jurcenco e Zanelli. Rispondono i Liverpool e i Mister Avarucci in maglia bianco-rossa con Anzaldi, Cappellano, Ciatti, Cirene, Fornaciari, Lambri, Massimini, Palmeri, Alban Pietri, Aristan Pietri, Romagnoli, Schiavi, Scopelliti, Vernasca e Zagnoni. Squadra a centrocampo per il sorteggio, fischia l'arbitro e si comincia. Pallone in mezzo di Zanelli a cercare i compagni, c'è un contatto, si avvicina l'arbitro e calcio di rigore. Calcio di rigore, c'è stato il fallo di Zagnoni, sul dischetto va Zanelli, il tiro è incrociare, il gol. 1-0 per la Ponte Nurese, pallone da una parte e portiere dall'altra. Avanza il Liverpool, pallone in mezzo di Palmeri a cercare un compagno che è solo, punta il portiere, il tiro e c'è l'incredibile salvataggio sulla linea. Palmeri lavora il pallone sulla linea di fondocampo cercando l'appoggio ai compagni, serve Romagnoli che salta secco due avversari, il tiro a giro di Romagnoli. E' la palla che termina a lato di nulla. Attacca ancora la compagine biancorossa, pallone al centro a cercare Vernasca che è defilato. Il pallonetto di Vernasca, pallone che si infila in porta e conta il pareggio per il Liverpool. Gran gol di Vernasca. Inizione da metà campo per il Liverpool, pallone che viene battuto in mezzo, allontana la difesa avversaria. Rincorre il pallone Zagnoni che lo mette in mezzo, c'è Ciatti solo, che colpisce di testa. La palla batte sulla traversa, ma ha superato la linea, quindi vantaggio per il Liverpool. E poi la squadra corre ad abbracciare il mister in panchina. Sotto la Ponte Nurese la ricerca del pareggio. Il pallone che viene gestito sulla fascia sinistra, un'azione insistita, pallone in mezzo per Marchetti. Marchetti di punta col sinistro. La palla che batte sulla traversa e finisce in porta per il 2-2 della Ponte Nurese. Ultima azione offensiva della partita, calcio di punizione per la Ponte Nurese, pallone che viene battuto in mezzo. Il colpo di testa che termina a lato e su questo colpo di testa fischia la fine l'arbitro. Ponte Nurese e Liverpool pareggiano 2-2.